Buongiorno a tutti cari ascoltatori, di nuovo bentornati a Oragione Avvocato, gli schermi sono sempre quelli di Videonovara, Odeon TV e di tutte le altre emittenti sulle quali va in onda la nostra trasmissione. Dico nostra, questa volta ancora, al singolare Maestatis perché in molti casi non è assolutamente vero il vecchio detto meglio soli che male accompagnati. A me piacerebbe che oggi fosse qui con me l'Avvocato Gianmario Bastetti che saluto. In realtà, purtroppo, le combinazioni lavorative sono tali da aver provocato la necessità che anche oggi io sia da solo a condurre questa trasmissione. Ma non abbiate paura, è soltanto una parentesi. Abbiate fede anche solo quanto un granello di senapa e l'Avvocato Gianmario Bastetti tornerà presto con me a parlare degli argomenti di diritto e informativi che più lo contraddistinguono, come per esempio i diritti dei consumatori, questioni condominali e quelle che, insomma, sono un pochino le materie che lui predilige. Nel caso di specie di oggi, visto che appunto ancora sono da solo ad affrontare la trasmissione peraltro con grande piacere, la situazione è che abbiamo avuto in contemporanea una ispirazione da parte sia del sottoscritto sia di due ottimi colleghi di Novara che curano su un settimanale, anzi trisettimanale locale, un'ottima rubrica, sono i colleghi Monica Bombelli e l'Avvocato Matteo Iato e entrambi abbiamo deciso quasi contemporaneamente di occuparci di una sentenza della Corte d'Appello di Milano che è molto recente, 29 marzo, depositata l'8 aprile di quest'anno, del 2011, che riguarda l'articolo 591 del Codice Penale. Storia viva e urgente, come avrebbe detto Enzo Iannacci in Giovanni Telegrafista. L'articolo 591 recita abbandono di persone minori o incapaci e dice chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace per malattie di mente, di corpo, vecchiaia o altra causa, di provvedere a se stessa, quindi incapace di provvedere a se stessa o perché è minore dei 14 o per quelle cause che abbiamo elencato e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, quindi non proprio una bazzecola. Il caso che ha dato origine alla situazione è questo, una mamma lascia da sola a casa di sera la propria figlioletta di 11 anni. Risulta dagli atti del procedimento che il marito della madre che è stata imputata appunto di abbandono di minore, avesse telefonato verso le ore 21, 45, 22 a casa dal luogo di lavoro. Al telefono aveva risposto la figlia di 11 anni appunto la quale ha detto papà sono a casa da sola. Il padre arriva alle 22 e 30, trova la figlia ancora da sola, telefona varie volte al numero di cellulare della moglie, pare che sia spento, l'uomo telefona a un'amica, telefona ad altri parenti, poi finalmente i carabinieri. All'1 e 30 la madre moglie torna a casa. Evidentemente qui non so se si tratta di una situazione di separazione di fatto, ok, ma comunque evidentemente un grande accordo tra genitori non c'era e neanche tra appunto marito e moglie. Quindi scatta una denuncia. Il GIP, il giudice per le indagini preliminari, incaricato di dover decidere se l'imputata fosse o meno colpevole del reato di cui è l'articolo 591, la ritiene colpevole, asserendo, motivando che l'imputata, la mamma, aveva coscientemente, quindi si rendeva conto di aver lasciato la figlia da sola a casa per un periodo di tempo e di notte e così facendo l'aveva esposta anche in astratto al pericolo di possibili eventi lesivi. Certo che con la situazione di emancipazione che oggi anche i giovanissimi chiedono e che i genitori in qualche modo, a volte perché presi per sfinimento, a volte perché invece ci sono altre situazioni, insomma, è un po' difficile, ma davvero con il cellulare, con, adesso sentiamo l'avvicendamento della storia e vediamo un po' come è andata. Beh, la madre dice, ma io non mi sento colpevole, propongo appello, quindi appella alla sentenza di condanna. Quali sono i motivi dell'appello? Qual è la difesa della mamma? Dice, beh, ha quasi 12 anni, è matura, è giudiziosa, la bambina stessa aveva chiesto di darle maggiore fiducia e autonomia, e questo si sa che i figli lo chiedono ormai presto e bene, e quella sera avevano concordato insieme madre e figlia, che, insomma, la madre si sarebbe allontanata, la minore aveva un sacco di numeri di telefono della madre, della zia, dei nonni, dei parenti vicini di casa, caspita, ben conosciuti dalla stessa, e dalla quale, insomma, si poteva anche fidare, ma, insomma, per cui la difesa della madre sosteneva che mancavano i due elementi, l'elemento materiale del reato, perché la minore non era in si fatto modo stata abbandonata e non vi era nessuna situazione pericolosa. Inoltre mancava nella mamma la conoscenza, anzi la coscienza, chiedo scusa, e la consapevolezza di abbandonare la figliola. Insomma, l'ambiente era privo di pericoli, il reato non c'era. La Corte d'Appello, però, ha ritenuto infondate le doglianze, le lamentele della mamma, infatti ha ribadito, sostanzialmente replicando un pochino la sentenza del GIP, che costituisce abbandono di minore, quindi violazione dell'articolo 591 del codice penale, qualsiasi azione o omissione che contrasti con l'obbligo di custodia e di cura. Ed è sufficiente, scusate, che per l'integrazione del reato, che da tale condotta derivi un pericolo anche solo potenziale per l'incolumità della persona incapace. In questo caso, essendo infraquattordicenne, la si considera comunque incapace. E che ci sia quindi un'esposizione a pericolo della persona abbandonata, che possa anche essere meramente virtuale, eventuale, e non resta esclusa, quindi la violazione dell'articolo, né dalla temporaneità della condotta determinante l'abbandono, né dalla possibilità di eventuali soccorsi che possano provenire da altri soggetti che invece non sono quelli appunto che sono tenuti alla cura della persona abbandonata. Quindi il reato in questo caso era evidenziato anche dal fatto che a la madre comunque non era neanche reperibile, quindi la madre che era tenuta la vigilanza perché aveva il cellulare spento. B, che era rientrata molto tardi. C, che in ogni caso il fatto che fosse la ragazzina giudiziosa e matura, beh, questo comunque non incide sulla potenzialità della norma che parla di reato, che si verifica quando la persona è infraquattordicenne. E quindi il minore degli anni 14, per questo e altri tipi anche ben più gravi di reato, viene presunto come incapace di provvedere a se stesso. Infine, mancava anche, secondo i magistrati della Corte d'Appello, l'elemento soggettivo del reato. Cioè l'imputata era cosciente di lasciare sola la figlia per un lungo lasso di tempo, di notte, esponendola al pericolo, anche se astratto, di possibili eventi lesivi, come dimostra il fatto che la madre si era procurata, premurata, insomma, procurata diversi numeri di telefono e si era premurata di dare un elenco smisurato di numeri a cui telefonare. Mi chiedo effettivamente sul discorso della figura paterna, ma evidentemente il padre era al lavoro e quindi probabilmente non viene in considerazione il fatto che in quel momento fosse tenuto anche lui a sorvegliare la piccola, mentre la madre lo era. Però qui bisognerebbe di leggere la sentenza per esteso, per vedere un po' come sono veramente tutte le vicende. Comunque avete capito, attenzione a concedere, come dire, libertà di assenteismo, di prendersi libertà di assenteismo, parla dei genitori, nei confronti di figli o di ragazzi che abbiano comunque un'età minore di 14 anni. Ad ogni modo l'approfondimento può essere fatto anche via internet, la Corte d'Appello di Milano e la sentenza è quella del 29 marzo, depositata l'8 aprile 2011. Bene, detto questo warning, vediamo di ritornare velocemente a una cosa che ha riscosso un buon successo e non poteva essere diversamente, la chicca della volta scorsa rappresentata dallo stupidario giuridico, cioè quelle proposizioni che a volte sfugono, scappano al legale che difende magari con una certa oprosopopea o con un certo entusiasmo, anche una certa, come dire, foga, ecco, il proprio assistito o che magari scrivendo negli atti quelli che appunto si redigono alla propria scrivania si lascia sfuggire delle frasi che sono poi oggetto di attenzione umoristica, capita a tutti, d'altro canto gli stupidari non sono solo quelli legali, anzi se non ricordo male i primi pubblicati negli anni 80 dalla Mondadori riguardavano quelli scolastici, poi sono arrivati quelli medici, poi quelli farmaceutici e poi quelli legali naturalmente. Allora dallo stupidario giuridico di Massimo della Pena, velocemente perché vedo che il tempo sta passando, abbiamo alcune illegalità oratorie di colleghi di tutta Italia degli ultimi 25 anni, mi ci metto poi anch'io perché in realtà anch'io ho un archivio di mie piccole illegalità oratorie e se facendo un referendum raggiungiamo la metà più uno degli ascoltatori io sicuramente mi impegno a portare le mie illegalità. Per il momento leggiamo quelle di alcuni colleghi, tanto sono 4 o 5 e sono brevi ma molto efficaci, flash. Allora, volendo citare Plinio Lanziano, vabbè d'accordo che oggi vecchio non si dice più ma insomma Plinio il vecchio e Plinio il giovane, Plinio Lanziano, è stato cortesissimo questo avvocato, non resterebbe al mio assistito che abbandonare ogni cosa e andarsene ramengo per il mondo, raggiungendo finalmente la meta tanto agonizzata. E poi, vabbè, questo proprio l'ho scelto, abbiate pazienza, ma circa la natura maligna del suo tumore il mio cliente è in grado di esibire i risultati dell'autopsia che ha fatto pochi giorni addietro. Chiedo scusa per la pronuncia, ma purtroppo per me l'inglese è arabo. E, per finire, resta ancora da stabilire con certezza se l'uomo che ha commesso questo delitto sia colpevole o innocente. Signori giudici, signori ascoltatori, grazie per la fiducia, grazie per l'ascolto, giudicate con saggezza. Da Antonio Costa Barbè un arrivederci e a presto dagli schermi di Videonovara con Ho ragione avvocato.